L'anno nuovo inizia per il Chieti nel migliore dei modi, con un successo esterno ampiamente meritato sul campo di Martina Franca. Si è trattato di un incontro giocato ad alti livelli tecnici ed agonistici, da entrambe le squadre e soprattutto nella ripresa, che ha visto i neroverdi prendere le redini della partita sin dalle prime battute. Al contrario dell'ultima trasferta in terra umbra a Gubbio, oggi il Chieti ha dato la sensazione di meditare il colpaccio, pur giocando con una tattica accorta, tant'è che nel primo quarto d'ora era andato già due volte vicinissimo al gol con Di Renzo, che falliva miseramente, soprattutto nella seconda occasione, l'opportunità capitata agli al quinto minuto su perfetto assist di Fiaschi. L'allenatore del Martina, Boccolini, vista la sterilità delle manovre d'attacco dei suoi uomini, che non ancora creavano un serio pericolo alla porta del Chieti, tentava forse con un po' di precipitazione ed anche di presunzione, il tutto per tutto, inserendo alla mezz'ora del primo tempo la terza punta Vitali al posto del centrocampista Basile. Benché la sostenuzione sembrasse dare sul finire del primo tempo maggiore incisività all'attacco della squadra pugliese, alla lunga si sarebbe rilevata più congeniale per la squadra di Pinna. Nonostante fosse necessario un intervento di piede di Venturelli per ribattere un'insidiosa punizione di Villirillo, il Chieti chiudeva la prima parte della gara in credito di almeno un gol, e come spesso succede nel calcio si paventava che nella ripresa il Martina potesse punire la squadra neroverde, che aveva molto sbagliato in fase di conclusione. Così invece non è stato, perché nella ripresa il Chieti è tornato in campo ancora più concentrato, impartendo una lezione di calcio ai pugliesi e lasciando di stucco gli spettatori di casa. Infatti, mentre i giocatori del Martina Franca si riversavano in attacco senza peraltro sferrare mai un solo tiro verso la porta di Venturelli, il Chieti cominciava ad affacciarsi sempre più minacciosamente entro l'area di rigore avversaria, sfruttando gli ampi spazi apertisi tra le maglie della difesa di casa, in conseguenza di un mancato filtro a centrocampo dovuto all'eccessiva impostazione offensiva data da Boccolini e la sua squadra con la mossa a Vitali. Il Martina cercava di accentuare la sua pressione sempre più confusionaria, con lunghi attraversioni da tutte le parti del campo, sui quali Venturelli si mostrava impeccabile nella presa. Proprio quando il Martina non aveva più forza nel continuare questo sterile forcing, il Chieti coronava la sua perfetta gara con una rete capolavoro di fiaschi, al termine di una spettacolare azione tutta di prima. Dopo il gol del vantaggio, il Martina si buttava a capofitto in attacco, come un animale ferito, ed il Chieti, sempre attento e lucido, in difesa, dava l'impressione di poter dilagare in contropiede. Quasi allo scadere veniva il raddoppio, al termine di un'azione altrettanto splendida realizzato da Re, che come una furia insaccava in rete di testa. In conclusione, l'anno nuovo ha dimostrato, come avevamo già sottolineato in passato, che il Chieti fuori casa può vincere su tutti i campi, ed è questa forse l'arma in più per puntare sempre più in alto. Tutta la squadra si è espressa su livelli elevati, con una nota di elogio particolare per Fiaschi e Re, autori tra l'altro delle due marcature. E passiamo alla cronaca, che ha visto al primo e al quinto minuto il Chieti andare vicinissimo al gol, ma purtroppo siamo privi di queste immagini, per un blackout totale di corrente, durato fino al ventesimo minuto del primo tempo. Si passa quindi soltanto al quarantaquattresimo, dove c'è da segnalare un calcio di punizione battuto dal numero dieci Villirillo, che sferra un potente tiro proprio sulle ginocchia di Venturelli, che ribatte in campo. Al quarantacinquesimo invece c'è da segnalare un'azione del Chieti imbastita sulla destra, con Fiaschi che salta un avversario e entra in aria, crossa al centro, ma il difensore locale interviene su D'Agostino anticipando e devi andi in calcio d'angolo. E passiamo alla ripresa, precisamente al dodicesimo c'è questo calcio di punizione sferrato da Genovasi improvvisamente. Genovasi aveva visto il portiere Piraccini fuori dai pali, e ha tentato il pallonetto dalla lunga distanza, e Piraccini con l'aiuto della traversa devia in calcio d'angolo. Ma l'arbitro non si avvede della deviazione dell'estremo difensore del Martina Franca ed assegna quindi una semplice rimessa dal fondo in favore dei padroni di casa. E arriviamo al tredicesimo, sempre della ripresa, c'è Fiaschi che recupera palla, cede ad Ilari, Ilari per Re, Re apre per D'Agostino, D'Agostino di prima per Fiaschi, Fiaschi si invola solo davanti al portiere, salta Piraccini e di destra appoggia in fondo al sacco, una spettacolare rete realizzata da Fiaschi che ha suscitato gli applausi del pubblico di Martina Franca, un'azione tutta di prima, sinceramente difficile da vedere sui campi di Serie C. Immediatamente dopo il gol del Chieti c'è stata una reazione del pubblico che ha protestato per un atterramento in area commesso da De Amicis su Vitali, eccola qui, vediamo De Amicis nel tentativo di intervenire sulla palla, forse aggancia il piede della punta Vitali e il pubblico ha protestato energicamente ma l'arbitro è sembrato piuttosto deciso affidando un semplice calcio d'angolo per i padroni di casa. Al ventiseesimo c'è da registrare un tiro da fuori area operato da Genovasi, eccolo che scocca il tiro, Genovasi aveva visto il portiere fuori dai pali e ha tentato un tiro quasi impossibile che ha sorvolato di netto la traversa. Due minuti dopo il Martina si fa avanti, Acanfora che appoggia per Tripepi, bellissima l'apertura di Tripepi per Acanfora, poi interviene Arena ma Venturelli anticipa e l'azione di contrattacco del Martina sfuma. Al trentesincuesimo va via Fiaschi, di incontropiede, apertura di D'Agostino di prima, abilissimo in queste aperture, Fiaschi avanza, salta Argentieri, rimette a centro ma Guadalupe anticipa all'ultimo momento la punta D'Agostino e quindi la possibilità di realizzare il raddoppio sfuma. Ma è soltanto il preludio alla nuova marcatura che giunge puntuale al quarantatresimo, c'è D'Agostino sulla palla che lancia Fiaschi, Fiaschi si invola verso il portiere, adesso vediamo che la testa di uno spettatore purtroppo copre le immagini del nostro cameraman, c'è stato quindi, le descrivo soltanto, Fiaschi ha tirato in porta, il portiere ha respinto, è arrivato a Re come una furia che di testa ha d'inzaccato e realizzato la seconda marcatura. Proprio allo scadere, poi c'è stata una punizione in favore del Chieti, battuta da Agostino che di destro, con un tiro a foglia morta, lambito il palo alla sinistra del portiere Piraccini. Grazie. Grazie. Grazie.